Eccoci, ancora un'altra novità per quanto riguarda l'offerta sempre dell'abbigliamento elegante. In questo caso si tratta di una collaborazione che il nostro negozio ha avviato con un marchio di primissimo livello nel panorama italiano, che è Palsileri. Con Palsileri noi possiamo realizzare un abito su misura addirittura. In questo caso si tratta di un vero su misura, cioè verrà l'incaricato di Palsileri a prendere le misure della persona, farà scegliere tutto quello che è l'interezza del vestito, dalla forma della manica, dai revers, dal tessuto, tutto quello che riguarda la personalizzazione del vestito. In più appunto prenderà le misure della persona e realizzerà un vestito con Palsileri, cioè direttamente in fabbrica da Palsileri, su misura sulla persona che verrà qui in negozio. Naturalmente si tratta di un abito di livello eccezionale, quindi migliori tessuti, la migliore manifattura, e i tempi di realizzazione di questo abito sono circa di un mese, un mese e mezzo. Si tratta comunque di un servizio rivolto a una clientela che ha bisogno, mettiamo, di un abito da sposa, che ha bisogno di un abito importante per occasioni importanti o che semplicemente voglia un abito importante perché ha bisogno di lavorare in alcuni ambiti, di avere addosso un vestito serio, un vestito importante che possa rendere giustizia al proprio gusto.